Dichiarazioni soltanto strumentali quelle che il presidente del Neocomitato di Commercianti del Centro Storico Ugo Mastropietro rivolge all'amministrazione comunale sulla mancata organizzazione dell'enorme problema dei parcheggi. Così risponde l'assessora alla viabilità Carla Mannetti alle critiche mosse all'amministrazione comunale ritenute inconcludente e inerte di fronte alle richieste di commercianti. Ormai è braccio di ferro tra comune e commercianti che lamentano anche la presenza eccessiva dei mezzi della ricostruzione. Nei prossimi giorni ci sarà tal proposito una convocazione delle imprese dell'edilizia che hanno i cantieri in centro storico insieme all'assessore Vittorio Fabrizi. Sulla questione parcheggi e navette invece l'amministrazione ha fatto molto e stiamo avanti. Sulla navetta sappiamo tutti che è stata messa a disposizione della città una navetta elettrica che parte dal megaparcheggio e collega il centro storico fino alla fontana luminosa quindi benissimo la gente può parcheggiare al megaparcheggio per correre a piede del tunnel o in alternativa prendere la navetta quindi questo già un servizio in più che è stato dato che prima non esisteva. Sui parcheggi ovviamente rimane il fatto del megaparcheggio che è semi vuoto 700 posti completamente scoperti ne vengono scoperti soltanto una cinquantina una sessantina al giorno e questo è gravissimo quindi c'è un posto dove si può parcheggiare gli aquilani non parcheggiano e su questo sto lavorando molto per riprenderlo come comune e dare una nuova gestione una nuova visibilità. In più è partito il diciamo è stato approvato il progetto del parcheggio di San Bernardino abbiamo adesso spianato a fianco al parcheggio di Villa Gioia con l'abbattimento delle magistrali tutto quanto per metterlo a disposizione della città stessa operazione si farà per Portaleoni una volta che verranno abbattute le case si spianerà tutto e si creerà un parcheggio provvisorio così noi diamo delle risposte provvisorie e lavoriamo pure a lungo termine sulla creazione di nuovi parcheggi. Noi abbiamo ridotto tantissimo i permessi però non possiamo impedire alle ditte di venire in centro storico perché la ricostruzione è in atto si stava ragionando su delle fasce orarie però su questo c'è bisogno di un confronto con le ditte cioè come ci confrontiamo con i commercianti per dare delle risposte alle loro esigenze nello stesso modo ci dobbiamo confrontare con le ditte e capire quali sono le esigenze delle ditte